La dislessia è una malattia che incide sull'apprendimento della persona e influisce sulle abilità coinvolte nella lettura, nell'ortografia e nella scrittura. Siamo parlati in un convenio venerdì 24 febbraio all'ITET Alighieri di Cirignola nel Foggiano, organizzato insieme all'Ion's Club, istituto comprensivo di Vittorio Patrebio, club unesco o fantino. L'argomento ha destato l'interesse di docenti e alunni dell'istituto, diretto dal professor Salvatore Mininno, insieme alla dirigente scolastica del comprensivo Maria Luisa Russo, che hanno fatto i saluti istituzionali. Sono intervenuti i rappresentanti degli anticitati, Rinaldi del Lions Club e Rosaglia di Gregorio, club unesco. Molti esperti hanno approfondito la materia, lo psichiatra dell'olio sulla tematica della difficoltà dell'apprendimento, la professoressa Fugliani, che ha posto il tema del supporto didattico alle moderne tecnologie e infine il coro poco presente di ciò con la docente Maddalena Tressante. Ma sta la platea nell'auditorio Maddalite, in cui ragazzi e docenti, e non solo, hanno posto domande sui vari temi trattati e gli esperti hanno dato le opportune risposte.